Michele, Simona da Paglio, Cristiano, Monica da Cassia Firentina, Gabriele da Roma, Valerio, Anna da Sorano, Archevita da Ardea, Antonio da Berne, Beppe da Pune, Antonio da Roma, Vittorio da Roma, Bertone, Francesco da Tara. farmia Buckei Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. 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 Un po' per tutti. Un po' per tutti. un po' per tutti. Un po' per tutti. richiamate a tutti. Buona strada. Buona strada. bella compagnia. Bella compagnia. Bello posto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.